Grande partecipazione questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della stagione di prosa 2018-2019 del Teatro Stabile di Catania. Un evento molto atteso che apre uno spiraglio di luce nella travagliata storia del Teatro Verga. Intanto oggi è stato fatto un primo passo in avanti verso la risoluzione dello stato di allarme proclamato nei giorni scorsi dai sindacati nei confronti dei dipendenti che da tre mesi non percepiscono lo stipendio. Prima della conferenza infatti si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e la direzione del teatro. Per noi è importantissimo questa conferenza stampa, l'annuncio della stagione perché parliamo di teatro, di teatro da fare in un momento in cui il nostro ente si appresta a uscire da una situazione di estrema difficoltà come è noto. Da ieri noi stiamo già pagando tutti i creditori in forza del piano di risanamento, abbiamo fatto i bonifici, è una cosa straordinaria perché non era per niente sicuro che ci riuscissimo. Oggi la stagione sarà presentata dal nuovo direttore Laura Sicignano, una persona che sta mettendo una passione enorme in questo lavoro e come sempre nella vita ci sono luci e ombre, ancora soffriamo dal punto di vista finanziario. Quindi i nostri lavoratori non percepiscono lo stipendio da tre mesi, questa è una spina nel cuore di ciascuno di noi e quindi tutte le nostre energie sono indirizzate a risolvere anche questo problema. Titolo della stagione teatrale Connessioni umane, a parlarne è la nuova direttrice del prestigioso teatro catanese Laura Sicignano che ha una variegata storia artistica alle spalle. Originaria di Genova è regista e drammaturga e ha gestito e diretto diversi teatri. Questa stagione parla di argomenti che ci sono molto vicini, argomenti del presente, parla alle persone, delle loro storie. Lo fa attraverso nuova drammaturgia, lo fa attraverso i grandi classici. La stagione è popolata da un carosello di attori straordinari di tutta Italia, di livello altissimo, ma al tempo stesso le nostre produzioni catanesi andranno in Italia in una bellissima tournée a portare l'immagine della città come un'immagine vincente e positiva.